Con l'imminente arrivo della stagione balneare, a essere di peso sulle spiagge cittadine di Agropoli è l'ormai decennale problema delle alghe spiaggiate, presenti in quantità enorme sul litorale della Marina e quello del Lido Azzurro. Per anni le amministrazioni comunali passate hanno promesso, forse tentato, di risolvere la problematica, ma ad oggi il risultato è visibile a tutti. Il commissario prefettizio in questi giorni, con apposita delibera, ha espresso la necessità di effettuare dei campionamenti e delle analisi per la caratterizzazione dei cumuli con posidonia oceanica presso gli arenili, siti in località Lido Azzurro e spiaggia della Marina, al fine del conferimento ad impianti di recupero. La decisione è stata presa a causa dell'evidente accumulo di posidonia spiaggiata in esubero rispetto alla misura necessaria per il mantenimento dello stato di conservazione degli arenili. Tutto ciò comporta l'insorgere di problematiche di carattere igienico, sociale ed economico, in quanto impediscono la regolare fruizione degli arenili in un contesto nel quale le coste rappresentano la risorsa più preziosa per il turismo di Agropoli. Per questo motivo, nelle prossime settimane, i due arenili potrebbero essere interessati dalla rimozione della posidonia spiaggiata presente a Riva. Per la rimozione dei cumuli di posidonia, invece, bisognerà ancora attendere.